Seduta doppia di allenamento per la Virtus Franca Villa, che quest'oggi si allena sia al mattino che al pomeriggio, i ragazzi di Mister Taurino sono pronti per la prima uscita di campionato in programma in trasferta sul campo del Catanzaro. I biancazzurri troveranno una vecchia conoscenza sulla panchina opposta, ovvero Calabro, una sfida a distanza tra i due allenatori con l'allievo che spera di poter superare il maestro. Sì, perché Taurino ha mostrato i primi passi da tecnico proprio come vice dell'attuale allenatore dei giallorossi, ma questa è tutta un'altra storia appartenente al passato e che Taurino spera di poter scrivere soltanto il futuro. Intanto il match è stato anticipato alle 18.30 invece dell'iniziale 20.30. Domani però i biancazzurri svolgeranno la conseta rifinitura alla nuova Red Arena e subito dopo pranzo si partirà alla volta di Catanzaro. Intanto dal mercato è Daniele vantaggiato il primo obiettivo per l'attacco dei biancazzurri, la trattativa con la Ternana che ha già dato il proprio benestare al trasferimento in Puglia è favorita anche dagli ottimi rapporti esistenti tra le due società. L'attaccante inoltre da Brindisino accetterebbe ben volentieri il ritorno in Puglia. I dialoghi con l'enturascio del calciatore sono stati avviati già dalla scorsa settimana. Filtro ottimismo per la buona riuscita dell'operazione che comunque non si sbloccherà prima di lunedì.